Bari città sempre più innovative e smart con progetti di riqualificazione che lentamente stanno cambiando il volto del capoluogo pugliese come sta accadendo nel quartiere Marconi-San Cataldo dove proseguono i lavori di riqualificazione dello storico faro che presto ospiterà il Museo dei Fari e anche uno della radio. Il progetto rientra nel più ampio programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 realizzato dalla Regione Puglia. I lavori per la parte edile si sono conclusi proprio nei giorni scorsi e entro la fine del corrente mese di novembre dovremmo rendicontare tutto e il Dipartimento della Regione, il Dipartimento Cultura sta curando la parte terminale relativa all'evento sia organizzativo dell'inaugurazione ma soprattutto anche la parte relativa agli allestimenti finali. Intorno a questo luogo, a questo faro, ci sono altre due realizzazioni importanti. Il Parco del Faro e la pedonalizzazione di un tratto di lungomare complessivamente hanno un importo economico completamente finanziato di 8 milioni e 4 che sono stati oggetto anche di una procedura di gara conclusasi nei giorni scorsi e che vedrà proprio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche l'individuazione del vincitore. A partire dai primi giorni, dalle prime settimane di gennaio contiamo anche di avviare questo cantiere la cui esecuzione orientativamente ci riguarderà per circa due anni con una previsione di apertura al pubblico di questo parco orientativamente entro la fine del 2025. La Regione Puglia ha investito quasi 4 milioni di euro per il progetto che punta al restauro e alla rifunzionalizzazione di tre torri costiere, Torre San Felice a Vieste, Torre Calderina a Molfetta e Torre Pietra a Margherita di Savoia e di tre fari, oltre quello di Bari, anche il faro di Punta Palascia a Otranto e faro Torre Carlo V a Ugento.